benvenuti a questa edizione di triste telegiornale sul canale 172 oggi 25 aprile la festa la festa della liberazione il 73esimo anniversario della liberazione è stato celebrato anche a siracusa con una cerimonia principale al pantheon vediamo il servizio anche a siracusa si è tenuta questa mattina la cerimonia di commemorazione del 73esimo anniversario della liberazione è una festa nazionale della repubblica italiana un giorno importante per la storia d'italia che assume un particolare significato politico militare in quanto simbolo della vittoriosa lotto di resistenza militare politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall 8 settembre del 43 contro il governo fascista della repubblica sociale italiana e l'occupazione nazista la manifestazione principale si è svolta come sempre nel piazzale antistante alla chiesa di san tommaso al pantheon la cerimonia è iniziata con l'ingresso in piazzale dei confaloni dei comuni del libero consorzio comunale dei labari e dei vessilli dell'associazione combattentistiche e d'arma il il prefetto giuseppe castaldo insieme con il comandante militare marittimo autonomo in sicilia ha passato il rassegno dei parti schierati sul piazzale con un particolare riferimento all'unità dell'esercito della marina militare dell'aeronautica della polizia di stato dei carabinieri della guardia di finanza della polizia penitenziaria del corpo forestale dei vigili del fuoco e della croce rossa italiana presenti nello schieramento anche i rappresentanti dell'associazione combattentistiche d'arma con labari e medaglieri prefetto comandante di mare sicilia e i rappresentanti di comune e libero consorzio hanno poi deposto corone alle lapidi che riportano i nominativi dei caduti in guerra subito dopo la cerimonia si è svolta invece la messa all'interno della chiesa del pantheon tempo di bilanci per il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo a cinque anni dopo cinque anni appunto del suo mandato a Palazzo Vermexio vediamo tra le tante attività fatte dal comune in questi cinque anni lei ha detto sostanzialmente innanzitutto abbiamo dovuto difenderci Eh ma abbiamo dovuto difenderci perché mi pare un fatto assolutamente scontato a questo punto la storia lo dice in maniera chiara di quello che è avvenuto c'è stato un accanimento sostanzialmente sul comune di Siracusa legato ad affari legato a vicende veramente molto scure che sono venute fuori il 6 febbraio ovviamente non sono uno che si lascia intimidire, intimodire perché non so non era facile sopportare una certa pressione ma evidentemente abbiamo assistito a, io ho dato più volte la solidarietà ai miei funzionari ai miei dirigenti del comune, dirigenti della città che poi non sono i miei del sindaco Giancarlo Garozzo ma sono del comune di Siracusa e sono persone che lavorano lì stabilmente perché ovviamente sono stati insieme alla politica, sono stati aggrediti in maniera scomposta in maniera ingiustificata e ce ne sta dando ragione comunque tutto quello che sta avvenendo nell'ultimo periodo Il sistema Siracusa in sostanza? Il sistema Siracusa è qualcosa di scandaloso che viveva ben radicato nella nostra provincia da quasi un vendegno ed è un qualcosa che si è manifestato in tutta la sua prepotenza con l'aggressione al comune di Siracusa quando ci hanno fatto passare per essere tra le città più indagate d'Italia e invece visto che li avevamo denunciati eravamo sicuramente dalle città con degli amministratori più per bene d'Italia di questo ne vado molto fiero e non smetterò mai giorno di ribadirlo ai miei interlocutori C'è anche da aggiungere il fatto spiacevole di un attentato incendiario subito alla macchina della sua famiglia? Sì, questo è arrivato nel mese di novembre dell'anno scorso ed è stata una ciliegina sulla torta rispetto al clima già pesante che vivevamo anche la mia famiglia ha risentito di tutto quello che è successo in questi anni, è evidente è arrivato questo attentato incendiario dove gli organi competenti mi dicono che in brevissimo tempo faranno luce rispetto all'accaduto ed è evidentemente legato all'azione amministrativa quindi un altro episodio spiacevole di una gravità inaudita perché quando lo si fa a un sindaco lo si fa alla città evidentemente Cinque anni dopo, con piena esperienza, adesso che campagna elettorale sarà la sua personale? Sarà una campagna elettorale intanto legata sicuramente ai contenuti delle cose che abbiamo fatto ma soprattutto alle cose che abbiamo programmato rispetto al futuro intanto il lavoro che stiamo facendo in questo momento è quello di creare una coalizione più ampia possibile perché il rischio concreto è di tornare a politiche che si facevano 15 anni fa in questa città e sono quelle politiche che hanno di fatto distrutto la città cominciando dal piano regolatore generale delle sue scelte che ha mortificato le zone balneari perché le scelte fatte nel piano regolatore in sede di pianificazione sono quelle che determinano ad esempio la mortificazione delle zone balneari quindi ci scontriamo contro un sistema che già conosciamo e conosciamo bene l'ho definito che c'è il rischio di rivedere un film già visto ma un bruttissimo film già visto e questo è assolutamente da scongiurare quindi si lavora perché ci sia un'ampia condivisione e per poter fare in modo che ci sia una coalizione competitiva rispetto allo schieramento di interessi che si è messo in campo in questo momento Trasferimento degli uffici tecnici comunali nell'edificio di via San Sebastiano entro tre mesi ci sarà il trasloco e il risparmio del canone sarà di 260.000 euro Il dirigente del settore patrimonio ha firmato il contratto di locazione che consentirà di trasferire nel nuovo immobile di via San Sebastiano gli uffici tecnici, l'ufficio tributo e gli archivi In buona sostanza tutti gli uffici attualmente operativi al palazzo di vetro di via Brenta e quelli di via De Caprio saranno trasferiti nel palazzo a ridosso di piazza San Giovanni Grazie alla stipula di questo nuovo contratto il comune otterrà un risparmio per spese da locazione pari ad oltre 260.000 euro annui Il trasferimento degli uffici avverrà nei prossimi tre mesi Prosegue l'attività dell'amministrazione per la riduzione dei costi e il miglioramento dei servizi dichiara l'assessore al patrimonio Salvatore Picciona Il palazzo di via San Sebastiano è stato impiegato in passato da altre istituzioni Per anni infatti, e fino all'inizio del 2000, è stata la sede della questura di Siracusa Dopo il trasferimento degli uffici e della Polizia di Stato nell'attuale sede di Viale Scala Greca quell'immobile era stato preso in affitto dall'ASP8 per allocarvi alcuni uffici ma l'esperienza è durata per poco tempo e fino alla riattivazione dei padiglioni dell'ex ospedale neuropsichiatrico dove oggi sono operativi Parliamo di gestione dei rifiuti, o meglio, di gestione dei rifiuti nelle città turistiche perché Siracusa è dentro un progetto europeo domani ci sarà la firma di un protocollo con i partner privati Siracusa è una delle 11 città pilota europee scelte per il progetto Urban Waste pensato per il rilancio nelle località turistiche di misure di prevenzione nella produzione di rifiuti urbani il piano sarà presentato domani all'Urban Center l'amministrazione incontrerà i soggetti locali che collaboreranno al progetto poi sarà firmato un accordo volontario per l'implementazione delle misure previste nel piano operativo attraverso attività di supporto e sviluppo il progetto Urban Waste coinvolge quattro assessori alle politiche ambientali, alle attività produttive, al turismo, all'innovazione tra i partner locali, IGM, rifiuti industriali, Ionic Ambiente, associazioni turistiche quali Proloco Sicilia Turismo per Tutti, noi albergatori, l'associazione guide turistiche e strutture ricettive l'obiettivo del progetto Urban Waste è quello di sviluppare nuove strategie eco-innovative attente anche alle differenze di genere e buone pratiche in grado di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e incentivare la corretta gestione, la raccolta e il riuso e il riciclo dei rifiuti nelle città turistiche Le altre città interessate oltre a Siracusa sono Firenze, Nizza, Copenhagen, Cavala in Grecia Nicosia, Dubrovnik, le spagnole Santander e Tenerife e le portoghesi Ponta Lisbona e Delgada Bentornati per la seconda parte del nostro giornale parlato occupiamoci di agricoltura i parlamentari regionali del Partito Democratico fra i quali il siracusano Giovanni Caffeo dicono sbloccare i contributi per il biologico tramite AGEA in tal senso è stata presentata un'interrogazione a Lars Sbloccare nel più breve tempo possibile i pagamenti tramite AGEA alle imprese agricole che operano nel biologico lo chiedono in un'interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all'assessore all'agricoltura i parlamentari regionali del PD tra cui Giovanni Caffeo l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, quindi AGEA, svolge funzioni di coordinamento e di pagamento dei contributi stabiliti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea e provvede all'erogazione dei premi e dei sostegni in agricoltura i ritardi, si legge nell'interrogazione, sono dovuti a problemi che si sono manifestati nel corso delle verifiche informatiche che AGEA e le sue società partner hanno messo in atto per determinare i pagamenti ad istruttoria automatizzata e manuale sostenere l'accesso delle imprese agricole al biologico e favorire il mantenimento del metodo per le aziende che lo hanno già adottato rimangono delle grandi scommesse strategiche per i programmi di sviluppo rurale 2014-2020 le produzioni biologiche sono il futuro dell'agricoltura siciliana che deve sempre più puntare a produzioni di qualità e controllate per questo concludono i parlamentari del PD e quindi anche Caffeo chiediamo all'assessore all'agricoltura e al governo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a sbloccare i finanziamenti liquidando attraverso AGEA i fondi previsti per il biologico E adesso facciamo con il collega Serbis Picuglia un viaggio tra le discariche abusive a Siracusa un viaggio nella vergogna e nell'inciviltà Discariche abusive, ancora una volta torniamo a parlarne e lo facciamo entrando a Siracusa dalla strada che al contrario porta verso Canicattini, questa è Traversa Palma davanti a noi ci sono dei cumuli di materiale di risulta, immondizia una discarica a cielo aperto di un determinato tipo all'interno ci sono anche residui di amianto, immondizia e quant'altro proprio in questa zona inizia il nostro rientro a Siracusa mostrandovi quali sono le discariche considerate tra le peggiori proprio perché i residenti della Traversa Palma più volte se ne sono lamentati ci sono stati diversi interventi da parte della polizia ambientale quali sono i dispositivi che vengono utilizzati su quel palo c'era, adesso non esiste più perché è stata prima spostata in modo da riprendere la strada non più soltanto l'area dove viene abbandonata l'immondizia e il materiale di risulta c'era una telecamera collegata con la polizia ambientale la polizia ambientale che più volte è intervenuta adesso quella telecamera è stata distrutta completamente e poi inoltrandosi in fondo alla Traversa Palma ma venendo dalla parte della strada quasi nascosto dietro gli alberi, dietro il verde c'è l'apoteosi dell'abbandono illegale in questo caso vediamo una grandissima quantità di amianto abbandonato poco dietro ci sono copertoni d'automobile poi a perdita d'occhio dietro ancora materiale di risulta serrande, mobilio e quant'altro e poi ci sono anche le situazioni risolte come nel caso dell'ex stall il locale anni fa dato alle fiamme è disabitato, non più utilizzato quello che vediamo oltre la rete è uno spiazzo che negli anni era diventato uno delle discariche abusive più brutte di Siracusa e più usate adesso rimane solo qualche bottiglia casuale fuori dalla recinzione casuale perché ci sono stati diversi interventi in questa zona prima alcune associazioni civiche che sono venute a fare un po' di pulizia e poi dopo il sequestro dell'aria l'intervento della polizia ambientale parliamo adesso di gemellaggi di scambi culturali tra le scuole un confronto tra paesi europei coinvolgendo studenti e professionisti il Closing the Gap è in questa direzione un progetto del liceo scientifico Corbino un gemellaggio nel nome dello scambio culturale delle esperienze scolastiche e professionali è la direzione in cui si è mosso il liceo Corbino con un progetto partito nel 2015 che intende colmare un gap tecnologico attraverso anche il peer to peer allora questo è un progetto il cui nome è Closing the Gap in ICT un progetto che è iniziato nel 2015 e va avanti da tre anni è un progetto che ci ha fatto crescere tantissimo per due motivi uno dal punto di vista didattico perché confrontarsi per tre anni con altri otto paesi europei cioè nove paesi europei tutti insieme che lavorano con un'ottima sinergia lavorare ci ha fatto crescere e abbiamo potuto notare tutte le unità che abbiamo provato perché le ultime sono diventate assolutamente eccellenti Cosa dovrebbe lasciare questa esperienza ai ragazzi? Questa esperienza quindi lascia questa grossa opportunità perché noi abbiamo lavorato per colmare questo gap dal punto di vista della tecnologia ma anche lezioni peer to peer vuol dire che sono stati gli studenti stessi a lavorare e a insegnare quello che sanno agli altri studenti questo è un primo obiettivo ma un altro obiettivo altrettanto importante è stato quello di creare un'Europa unita sono soldi della comunità europea e non credo che la comunità europea abbia potuto dare tutti questi soldi se non per un motivo fondamentale ed è quello di stare insieme e di lavorare tutti insieme e di creare un'Europa unita e ci siamo riusciti questo è stato l'obiettivo che ci è piaciuto di più è tutto per questa edizione di Triste Telegiornale grazie per la vostra cortesa attenzione arrivederci e vi sentirei al prossimo appuntamento grazie a tutti